ciao a tutti sono gabry costa in questa seconda parte del gioco tartarughe ninja shredder revenge vi faccio vedere una cosa pazzesca guardate che succede shredder prende una fiala del liquido la butta a terra e si trasforma è diventato un super shredder è questo lo scontro finale ragazzi ma il problema è questo come lo fermiamo questo super shredder dobbiamo fare attenzione al fuoco verde che fa però quando si distrae quando viene estordito dopo aver usato la barriera quando scende a terra dovete picchiarlo subito immediatamente questa non ci voleva l'ultima fiala del liquido l'ha bevuta tutta è un super shredder però super shredder si vedeva anche nel film tartarughe ninja 2 il segreto di uz questo è il sedicesimo e ultimo livello che stiamo facendo in questa bella modalità storia non dimenticate che siamo a times square quando super shredder fa questi quattro fumogeni viola distruggeteli per disattivare la sua barriera dai che ci siamo quasi devo essere vicino alla vittoria dai che ho quasi vinto facciamo veloce dobbiamo essere veloci a finire il video a finire la recensione si vittoria e vai abbiamo concluso la modalità storia di tartarughe ninja shredder revenge abbiamo sconfitto super shredder e io vi devo salutare spero che vi sia piaciuto questo scontro finale se il video vi è piaciuto condividetelo adesso mettete un mi piace iscrivetevi al canale e ricordatevi che è tornata la pace kawabanga è un grido il segno di vittoria e lo faremo risuonare in tutto il mondo è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte